Il periodo più importante dell'anno, ovvero quello di Vrestelmania, ce lo siamo ormai lasciati alle spalle. Abbiamo discusso in lungo e in largo del Grand Daddy of the Mall e non solo, anche degli strascichi che lo Showcase of the Immortals ha lasciato in WWE. E se è vero che l'evento a pagamento è stato sicuramente positivissimo, è altresì vero che le puntate settimanali successive a Vrestelmania non sono state poi emozionanti quanto avrebbero dovuto. Può chiamarsi questa occasione sprecata? Ditemelo voi nei commenti. Ma è uscita una bellissima notizia per quanto riguarda soprattutto noi fan europei, perché il grande evento a Cardiff del 3 settembre ha fatto registrare il maggior numero di biglietti venduti in 24 ore, quasi 60.000, più della stessa Vrestelmania, cifre da record. Se fosse stato tra giugno, luglio ed agosto probabilmente avrei provato a comprare i biglietti, ma a settembre sono in piena stagione sportiva e purtroppo non riuscirò ad andare. Stesso motivo per cui probabilmente almeno per altri dieci anni non riuscirò a vedermi una Vrestelmania dal vivo. Questa cosa è davvero triste. Dovrò ripiegare su Summerslam, ma questo è un altro discorso. E proprio in merito al discorso cifre, incassi e soldoni, ho deciso di fare questa top 10 e non 5. Ringraziatemi più tardi. Quindi bando alle ciance. Andate in banca a depositare il vostro sostanzioso assegno autografato da Vince McMahon. Levatevi qualche sfizio, ma vedete di non finire in banca rotta e allacciate le cinture, perché... Foccafame amici, sono il vostro Certified Why e queste sono le 10 superstar più pagate della WWE nel 2021. Devo ancora decidere se scriverò Superstar of Wrestler, probabilmente scriverò Wrestler. Numero 10. Kevin Owens. Sin dal giorno del suo debutto nel main roster, il canadese raramente ha toppato qualcosa durante la programmazione delle sue faide o dei suoi incontri. Lo ritengo una delle superstar più piacevoli da seguire, sia che sia Face, anche se la parentesi è durata ben poco, sia che sia Hill. La testimonianza è proprio la faida contro Stone Cold sfociata nel main event della prima notte di Vrestelmania e con 2 milioni di dollari, occupa l'ultimo gradino di questa speciale classifica, li trovo più che meritati, perché per l'appunto non mi delude mai e anzi, gli darei volentieri un altro titolo mondiale. Numero 9. Demitz. Questa classifica mi sta facendo veramente sorridere, perché le prime due posizioni, a partire dal basso, sono due delle mie superstar preferite. Anche Demitz, uno dei migliori Hill degli ultimi anni, se non di sempre. Oh no, ho detto di sempre. Sì, ho detto di sempre. E quindi? Avete qualcosa in contrario? E la cosa che mi fa strano è che Demitz ha 41 anni. Me lo ricordo giovanotto con quella cresta improponibile. Adesso ha 41 anni. E io ne ho 28. Oh, signore. 2 milioni e mezzo di dollari annuali per lui. Sfrutto questa posizione, visto che siamo ancora all'inizio della classifica, per dirvi che sono i soldi da contratto, ovviamente esclusi sponsor, esclusi bonus e quant'altro. Cioè, è la cifra che percepiscono per le loro prestazioni in ring o comunque on screen. Sicuramente ci saranno tanti cavilli, come i diritti d'immagine per i videogiochi, oppure le apparizioni in qualche serie tv o film. Che dire di Demitz? Sono quasi 20 anni che è nel business uno dei migliori talker al microfono che abbia mai visto. È davvero una delle mie superstar preferite. Pochissimi problemi fisici e secondo me questa cosa influisce nei guadagni di una superstar, perché più è affidabile, più lo si può riempire di soldi. Due volte campione mondiale, otto volte campione intercontinentale ed è uno che ha ridato lustro a questa cintura, non come ora e non per colpa del campione attualmente, ma proprio della gestione del titolo negli ultimi anni. È un attore, ha il suo reality e quindi ci sta. Numero 8. Goldberg, proprio lui. 3 milioni nel 2021 per 3 match. Un milione a match per il buon Goldberg. Perfetto, però poi tagliamo le altre superstar per problemi di budget. Ma va, fatto sta che il suo status da leggenda agevola sicuramente i suoi incassi e il suo conto in banca è più attivo di lui. Ha combattuto a gennaio contro Drew McIntyre, ha perso, ha combattuto contro Bobby Lashley a Summerslam e ha ricombattuto contro Bobby Lashley a Crown Jewel. Fortunatamente nessun titolo vinto per quest'anno, grazie al cielo. Numero 7. Edge. Anche lui 3 milioni di dollari. Ma in realtà anche il prossimo sarà 3 milioni di dollari. Comunque anche lui, status da leggenda, al contrario di Goldberg, raramente la Rated R Superstar mi delude quando sale sul ring. Adesso è in mezzo ad una faida da sogno contro AJ Styles. Anche se il loro match a WrestleMania non dico che mi abbia deluso, però non ha rispettato del tutto le mie aspettative. Scusate il gioco di parole, ma non ho fatto un gioco di parole. E adesso è a capo di una nuova stable, con Damian Priest che nell'ultima puntata allo show rosso ha mostrato poteri da elettricista o da tecnico delle luci, visto che si è puntato un faro viola addosso. Secondo me ci saranno altri ingressi in questo gruppo d'arc. Non so dove li porterà, ma chissà, servirà forse a rilanciare qualche superstar in disparte da un po' di tempo? Bella domanda. Numero 6. Seth Rollins. E anche per il visionario parliamo di 3 milioni di dollari annui, come anticipato prima. Quattro volte campione del mondo. Anche lui raramente mi delude. Forse la sua parentesi più noiosa è stata quando era Face ed era mezzo impazzito di testa contro Brock Lesnar. Però cosa vuoi dire a Seth Rollins? Uno dei migliori wrestler al mondo, in attività, ma forse di sempre. Anche qui mi allargo. Oh no, non è vero. Potrebbe fare un buon match anche contro il carrello sfigato del supermercato. Avete presente quello che prendete puntualmente alla rotella sbilenca che vi punta sempre a destra? Nell'ultimo anno ha avuto una bella rivalità contro Cesaro, ha combattuto contro Edge, è andato all'assalto del titolo mondiale, ma stiamo parlando anche qui di uno dei più grandi in attività. Come il prossimo, perché al numero 5 abbiamo AJ Styles, che guadagna mezzo milione in più di Seth Rollins e quindi si porta a casa 3.5 milioni di dollari all'anno. La creme della creme queste due posizioni, cioè Seth Rollins ed AJ Styles. Anche il Phenomenal One potrebbe combattere contro un palo della luce e tirar fuori una contesa gradevole. E per questa posizione voglio collegarmi a qualche commento che ho letto in giro che parlava di Cody Rhodes, in cui c'erano perplessità perché sappiamo che la WWE non apprezza molto le superstar provenienti da altre federazioni e che hanno avuto molto successo in altre federazioni. E rispondendo a commenti del genere ho detto prendete l'esempio di AJ Styles, cioè AJ Styles arrivava da Impact Wrestling e dal Giappone, ma comunque i suoi successi in WWE li ha avuti. È stato campione del mondo, è campione degli Stati Uniti, è campione di coppia, è un Grand Slam Champion e tutto questo in 5 anni. Quindi non temete. Secondo me Cody Rhodes si toglierà delle belle soddisfazioni e come lui i suoi fan. Posizione numero 4 per Randy Orton, 4 milioni e mezzo di dollari. C'è bisogno di parlare veramente di Randy Orton? 14 titoli mondiali, titoli secondari a destra e a manca, futuro Hall of Famer senza dubbio, il possessore della finisher più iconica nella storia del wrestling, la RKO, le tre lettere più pericolose di questo business. Tecnicamente uno degli atleti più puliti che abbia mai visto, raramente sbaglia una manovra e poi ha quel fascino che non lo abbandona mai, ha quell'aura mistica attorno alla sua figura che fa impazzire chiunque. E soprattutto dimostra di sapersi reinventare, come testimonia la parentesi con Riddle negli RKO. Posizione numero 3, gradino più basso del podio per Roman Reigns. 5 milioni di dollari per l'attuale campione universale e WWE, volto della federazione Top Hill di SmackDown, ma della World Wrestling Entertainment in generale. Più di due anni consecutivi di regno, era facilmente pronosticabile una posizione così alta in questa classifica per il Tribal Chief, a cui ho dedicato tra l'altro l'ultimo video per analizzare la sua situazione attuale, perché oggettivamente è senza dubbio il wrestler con lo status più grande degli ultimi anni e probabilmente al giorno d'oggi nell'intero business. Ha dominato contro chiunque, ha sconfitto chiunque e la WWE farà chiaramente di tutto per tenerselo stretto il più a lungo possibile e una di queste cose è ricoprirlo d'oro. Numero 2, John Cena. In un TikTok avevo parlato dei guadagni delle superstar in WWE e riferendomi ai contratti, ho detto che spesso le leggende che magari appaiono poco vengono ricoperte di soldi anche per non farle passare alla compagnia rivale. Non penso che questo sarebbe il caso di John Cena perché non tradirebbe mai Vince McMahon, però per altri il discorso potrebbe essere questo. Chiaramente Cena viene ricoperto di soldoni, si parla di 8 milioni e mezzo nel 2021, per la potenza mediatica che ha Johnny Boy, pur apparendo poco sul ring. Viene sfruttato per le pubblicità, per promuovere gli eventi o i prodotti della WWE. L'anno scorso ci ricordiamo la faida contro il Travel Chief e poi ha partecipato ad alcuni eventi live e ad alcuni dark match nel roster di SmackDown, però è John Cena ragazzi, cioè è facile comprendere per quale motivo guadagni così tanto. E posizione numero 1, ovviamente, Brock Lesnar. Stiamo parlando della principale attrazione nella storia del wrestling, un atleta che non ha eguali, nessuno mai come lui, su un ring. E infatti si è cuccato nel 2021 12 milioni di dollari. Però rispetto agli scorsi anni, quando anch'io lo criticavo perché compariva, vinceva il titolo e poi spariva per 4 mesi andando in vacanza a pescare trote in un laghetto in Canada, nel suo ultimo stint è stato ben più che presente e mi ha fatto godere come una scrofa che si sollazza al sole dopo essersi rotolata nell'etame. Dai, quanto è stata bella la parentesi da Face di The Beast, che era pubblicizzato per WrestleMania Backlash, ma è stato rimosso dall'evento, quindi probabilmente non lo vedremo ed è per questo che c'è Nakamura contro Roman Reigns. Un po' mi dispiace, però un periodo di pausa dopo tutte le presenze che ci ha regalato ci sta. Sono sicuro che lo rivedremo presto perché si è divertito tantissimo. Lo abbiamo visto dai suoi modi di fare. Era sempre positivo, sorridente, cazzeggiava col pubblico, prendeva in giro gli altri performer, o Paul Heyman oppure l'intervistatore di turno. È stata una gioia per gli occhi e questi 12 milioni è giusto che siano entrati nelle sue tascone da boscaiolo. Bene ragazzi, questi erano i 10 atleti più pagati nel 2021 in WWE. Spero di avervi divertiti, come al solito dal vostro Certified Wire è tutto. Grazie mille per essere passati, noi ci sentiamo ad un prossimo video e vi saluto con il consueto ciao.